Grazie a tutti. Abbiamo ripreso la strada della croce che eravamo stati per anni fermi per vari motivi e poi abbiamo ricominciato con un bel gruppo di persone. Ogni anno che passa aggiungiamo sempre una parte in più al nostro percorso della strada della croce e anche quest'anno abbiamo aggiunto una parte in più e quest'anno ci sarà la parte di Re Erode che anche negli anni precedenti non c'è mai stata. Cosa posso dire? Sono felice perché le persone che ci hanno insegnato a vivere la strada della croce che adesso non ci sono più abbiamo un buon ricordo di loro e continuiamo sulle nostre orme. Ogni anno ci sono sempre persone nuove sia della comunità di Ponte e altre comunità ad esempio anche Locana, dei ragazzi di Locana sono anni che partecipano alla strada della croce e questo ci fa piacere. Ogni anno speriamo che ci sia sempre più persone che partecipano e come dice Donaldo è proprio non un teatro ma è un atto di fede. Eugenio tu hai partecipato anche all'organizzazione di questo evento quindi sei proprio nel direttivo di coloro che si occupano di gestire questa grande macchina organizzativa. Quali sono le difficoltà che riscontrate e che risolvete sempre sapientemente molto bene? Difficoltà ce ne sono tante perché man mano che si va avanti è sempre più difficile tra permessi e queste cose da chiedere per fare le manifestazioni. Però pian pianino con l'aiuto della gente, delle brave persone che ci stanno accanto e ci aiutano riusciamo sempre a creare un bel gruppo. Dobbiamo ringraziare Piercarlo in primis per le scenografie e tutto che tutti i giorni lo martelliamo e altre persone come Vito, Renzo che vengono a aiutarci e anche Daniele che perdono serate e tempo che non dedicano loro alla famiglia ma la dedicano per fare la strada della croce. Donaldo Vallero, parroco della parrocchia di San Costanzo di Poncanavese, anche quest'anno si rinnova la tradizione con la strada della croce. Lei ama sempre ricordare che non è uno spettacolo teatrale, è comunque una funzione religiosa molto importante. Certo, da una parte mi spiace dover lasciare la liturgia del venerdì santo ma non viene esclusa, la facciamo a San Francesco e quindi per dare possibilità alla sera di poter svolgere questa strada della croce. Ormai da anni, ripresa dopo la pandemia e come già diceva Eugenio la cosa sta andando avanti bene, insomma c'è qualcuno in più che ci dà una mano, poi i personaggi, ha citato Erode, quest'anno appunto c'è la scena con Re Erode che poi viene presentata dal Vangelo stesso, insomma sappiamo che Gesù viene portato sballottato da Pilato, da Sinedrio prima, poi da Pilato e anche da Erode, però anche Erode a un certo punto se ne lava le mani, insomma lo prende per un pazzo e lo rimanda. E poi sappiamo il senso vero e profondo di quello che noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo, di dare la possibilità a coloro che vengono per questa serata a riflettere su quello che è veramente con la strada della croce. Una strada della croce che secondo me continua nella storia, questo credo sarà fino alla fine dei tempi, quando il Cristo glorioso tornerà e si sanno cieli nuovi e terra nuova. Se pensiamo soltanto a ciò che sta accadendo nel mondo, guerre, violenze, di tutto e di più, ecco questo vuol dire in terra santa, la stessa terra ecco di Gesù, no? E questo fa riflettere, pensare, no? Come il peccato, quindi l'uomo nella sua libertà può fare di tutto e di più, non certo in bene, almeno in questo tempo che stiamo attraversando. Per cui io mi auguro che sia una serata di riflessione, di meditazione veramente su quello che è stato l'evento storico di Gesù di Nazareth nella nostra vita, nella storia dell'umanità. Prima abbiamo dato un'occhiata al dietro le quinte, abbiamo visto tantissimi giovani che si sono cimentati nel ruolo di attore, di attrici. Quindi queste occasioni possono essere davvero degli eventi anche per avvicinare i giovani alla Chiesa, che sappiamo l'allontanamento dei giovani in particolare è una piaga molto importante. Credo che tutto possa servire. Ha ragione Baba Francesco, lo dice a noi sacerdoti, ma lo dice a tutti noi cristiani, di essere vicini, vicini ai fratelli, qualunque essi siano. Tutti, la sua stessa enciclica, fratelli tutti, ci richiama a questo, che poi è il comandamento fondamentale che Gesù ci ha lasciato. Amatemi come io ho amato voi. E quindi, anche se magari qualcuno può pensare diversamente o meno, però una serata come questa sicuramente, io credo, può lasciare qualcosa di positivo, di bello per la propria vita. Alessio, allora, sono anni che ormai interpreti Gesù, un ruolo, insomma, il ruolo centrale di questa strada della croce, e tutti ricordano anche quando il momento in cui vieni, diciamo, crocifisso, che sembra un momento importante, di grande emozione. Insomma, qual è la tua emozione nell'interpretare questo personaggio davvero molto importante? Allora, sì, come ho detto te, questo qui è già il terzo anno che lo faccio. Per me, da Pontese, fa piacere che abbiano scelto me. Diciamo che non c'è un momento particolare che mi piace più degli altri, è tutto bello, nel senso, lo sento dall'inizio alla fine come se fossero tutti pezzi importanti, dall'orto degli ulivi e dalla crocevisione all'arresto, quindi tutto quanto bello e sentito. E la tua preparazione? Quanto tempo ci metti per prepararti? Come ti gestisci? Insomma, perché non credo tu sia un attore professionista, quindi c'è magari anche una difficoltà in più. Allora, l'unica preparazione che faccio è fa crescere barba e capelli, che più o meno l'ultima volta che li taglio sono più o meno inizio gennaio, e quello lì è l'unico, diciamo, preparativo che faccio. I tuoi amici cosa dicono? Sono contenti? Immagino siano fieri di te che interpreti un ruolo come quello di Gesù. Allora, diciamo che subito la prima volta che glielo ho detto sono rimasti un po' così, mi fanno come, ma te la senti, cioè, giovane così, e secondo me, al di là di chi ci crede o chi non ci crede, secondo me è bello, cioè nel senso, è bello partecipare perché comunque fa sentire parte vivo della comunità, è bello dopo, prima, durante, è bello dopo quando le signore ti fermano per strada e ti dicono, ah ma tu sei il signore, faccio, sì sì, sono io, è bello, è bello, è sentito e quindi, anche se sono giovane, mi piace. Immagino che gli organizzatori ti abbiano già fermato anche per i prossimi anni perché, insomma, ormai è una tradizione, poi, insomma, sei un ragazzo giovane e quindi interpreti perfettamente il ruolo. Ma, allora, questo bisogna chiederlo a Donaldo, però penso di sì, quindi sì, credo di sì, io comunque sono disponibile. Altri due personaggi importantissimi nella strada della croce, cominciamo da Caifa, insomma, un ruolo che ricopre da molti anni, se non sbaglio. Da 41 anni fa io ho fatto la prima via Crucis e io già partecipavo, la barba era più corta, più nera, non più bianca e facevo San Pietro. L'anno dopo poi Don mi ha chiesto e ho incominciato a interpretare Caifa, quindi dall'epoca che interpreto Caifa. Io allora abitavo a Ponte, adesso abito a Ozzegna, comunque sempre con grande soddisfazione e un gran piacere venire a Ponte a recitare, partecipare e far vivere questa rappresentazione. Il mio ruolo è un po' antipatico perché è il primo, è l'accusatore, quelli che proprio vogliono, però cerco di farlo nel mio meglio. Che cosa è cambiato dalla strada della croce degli anni 90, fino agli anni 80, inizio 90 e quella invece che va in scena oggi? A parte l'età, ma poi è cambiata l'ambientazione prima di tutto perché le prime, non so se vi ricordate, si facevano dal campo qui dell'ex ospedale fino a Santa Maria e poi la crocifissione sulla Santa Maria che era molto spettacolare, poi tutto lo sviluppo della via Crucis era spettacolare. Il problema sono state le sicurezze, che non era garantita la sicurezza sia per chi partecipava sia per chi interpretava e quindi quando l'abbiamo riproposta è rifatta qui in chiesa, dove però c'è un altro vantaggio rispetto all'epoca, farla qui in chiesa, è molto più raccolta, io ho visto la gente che partecipa molto di più in raccoglimento e proprio nello scopo, come diceva Donaldo, di rappresentazione religiosa e non spettacolo. Fuori forse era più spettacolare ma meno religiosa, qui in chiesa molto più raccolta e molto più religiosa. E adesso passiamo al personaggio di Erold, un personaggio, immagino che tu sei un ragazzo giovane, quindi la strada della croce degli anni 90 la vivevi da spettatore, da bambino immagino. Sì, la vivevo da bambino, quest'anno, l'anno scorso ho già partecipato, ho fatto, io ero nel Sinedrio insieme a Giancarlo, abbiamo fatto il Sinedrio, è stata una bellissima esperienza, quest'anno abbiamo, tramite il Don, con tanto lavoro e tutto, abbiamo inserito, come diceva Pilato prima, il personaggio di Re Erode, che giustamente ha una parte anche abbastanza rilevante nella crocifissione e purtroppo non siamo mai riusciti a farlo perché il lavoro è tanto e poi comunque sia non c'erano i costumi, mancavano le scenografie, mancavano insomma tante cose. Poi, grazie all'aiuto di tutti i nostri tecnici che ci hanno dato una mano per le scenografie, io ho provveduto insieme alle sarte per i costumi, per come farli e tutto quanto, siamo comunque riusciti a realizzare quello che poi si vedrà dopo e insomma di questo ne siamo molto contenti. Poi se riusciamo sicuramente ogni anno, ovviamente nei limiti del possibile, ad apportare sempre qualcosa in più, sicuramente può essere un vantaggio. E' sempre che la via cruci scresca, che sia sempre più sentita e che ci sia sempre più partecipazione, specialmente ovviamente da parte di tutte le persone e da parte anche di tanti figuranti che appunto se ce ne saranno sempre di più sarà tutto di guadagnato perché ovviamente mancano tanti ancora personaggi, guardie nel sinedrio e tutto, quindi chi vuole venire noi lo aspettiamo molto molto volentieri. Grazie a tutti.